guarda mettiamo la cassetta base e la facciamo normale vediamo che succede lol 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 coltello qua a posto ma tipo se io prendo questo vaso scusa ma ah aspetta giallo giallo e blu fa verde o vuole solo il giallo e bah sti cazzi forse quella cosa del cioccolato alla menta è un easter egg inutile e mo se lo pia questo no perchè ormai gli abbiamo dato l'altro colore di merda porco dio vuol dire che dobbiamo restartare un'altra volta che coglioni porco dio vabbè vediamo la seconda cassetta ma mo la seconda cassetta cazzo sta cazzo cazzo sta ah nel forno ah non l'ho settata non penso non penso mamma grazie dei 5 allora rivediamo sta cassetta qui Capiamo Allora New Bloodbot 15.03.25 15.03.25 Manda le mie condoglianze Ok Si è glitchato tutto il cos Ho capito Questo allora sarà il finale Con il robot Per un altro finale Seba grazie del sub Aspetta qui mi sa che scopriamo Congrazioni di un anno in più Ti auguro l'anno migliore di sempre 0882 0882 0882 0882 Forse vuole al contrario 0882 Forse vuole qua 0882 Maybe another time No Non gli piace Questa torta Potremmo tocca niente 0882 0882 Ma perché dovrei provare 08 1 8 2 1 Ma ditemi perché Siete arrivati a questa conclusione Ah Dice le cantine 08 1 8 2 1 Proviamo 0 8 1 Ho già scordato 8 2 1 30 minuti a 3200 30 minuti a 325 Una candela Ma 1 per 4 4 Ok vuole un altro codice Ok Allora 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 E 0 Quello che c'è Sulla Torta è Nel biglietto Quello che c'è sulla torta è nel biglietto Ma perché mi ha dato sta cosa? Andrà messa da qualche parte Sta candelina Ok Prima me la faceva metto Quello che c'è sulla torta Che c'è scritto? Quello che c'è sulla torta è nel biglietto Ah perché mo le candele sono diventate due Quindi Due per quattro Otto Cinque meno due Tre Due per due più uno cinque Due diviso due uno Due quattro sei Uno C C D C F E Narta candela Porca madonna Porco dio Oh c'è un'altra cassetta Oh no Incidenti Con l'asterisco Sì Sì Woolly Woolly Ready for an adventure? Amanda No you can't Woolly had an accident When a friend has an accident Sometimes nobody can help them But we can try No Amanda I'm fine I just Poor Woolly is so confused We really have to help him First we have to know what is wrong What part of Woolly is broken? E se non clicco niente? Mi sa devo cliccare per forza Sto cago per forza cliccare Gli volemo sfondare ginocchio un'altra volta? O gli volemo sfondare la testa? Oh ma la capoccia Lulli's head is broken but dr. Amanda's here to help Let's prepare the patient Here willy drink this I don't know Amanda It's all just pretend isn't it willy? Amanda I feel uh They need to operate immediately on the patient's brain Ma capito Che tool should we use to fix Wooley's head? The saw, the hammer or the forceps Usiamo la sega That might be helpful But what else could we use? Il martello Things could get really messy if we use that Ah questo That looks hard to use But I could try Cazzo vuole che uso porco De se stop No It might be impossible essere con tre candele capo 3x4 12 già non puoi metterlo in cazzo non funziona sei matto 3x4 12 5-3 2 9 8 1 9 2 ma c'è un numero di più non lo puoi fare vogliamo provare con 0 cose quindi 0x4 0 5-0 5 0x0 0 più 1 1 0 diviso 0 0 0 0 e quello è meno 1 non lo puoi metter 1 ma non può essere poi 0x0 è infinito si lo posso proprio mettere infinito qui ho capito dai ho capito dai fortissimi troppo bravi stef c'è un cazzo di 34 no ho capito ti triggio noi usiamo tutti tre il paciente è raro ho bisogno di un po' di aiutare aiutami 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 chi ti vai aiutare aiutami 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 ci ha dato un destro eccoci qua c'è un'altra cassetta ah ma grazie degli 11 cassetta tutta cancellata i film preferiti di Riley di Riley ok i'm blue hi trapdoor tree ah ma grazie ah ma grazie Come cassetta sulla botola E' vero Estate 1984 Si prova subito 1984 No No Nasce Sarmo Speriamo che non hanno che non si ripete Porco dio Hi I'm allergic to apple How many tear How many mushrooms How many fruit How many plate Ah Vedi tipo i funghi quali questi contagli Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto funghi Aspetta Quante sedie Quante sedie Una Una sedia Una sedia Quanti frutti Quanti frutti Quanti frutti Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto funghi Apco 1, 8, 6, 1 Proviamo 1, 8 6, 1 No 2, no 3, no 4, no 5, no Andiamo a provare 1 C'è 5 su quello No Forse esatto Magari non è 1 a sedia Ma 2 Perché conta pure il divano Proviamo 2, 8, 5, 1 No 2, 8, 6, 1 No Oh 2, 8, 6, 2 Era Un'altra cassetta I am Ah no Film amatoriali E c'è anche un secchio Per favore non Non Dimenticarmi E c'è una chiave Sarà la chiave del baule E c'è un'altra cassetta Possiamo condividere Quindi abbiamo Tipo 2 Addirittura 2 cassette Da vedere Vabbè Vediamo prima questa Metti prima questo Vabbè Vabbè Tanto abbiamo il codice Per l'armadio Quindi dopo Oddio è sparita la pecora C'è un'altra I'll share some of my snacks with you Which snack would you like? Ma se è merda, porco Dio Damme some burger Yum, that's my favorite Friends can share other things too They can share secret Can I share a secret with you? Sì Come no? Io voglio sapere il segreto Ma che no? Sì 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 Oddio, il panetto di fumo Il panetto di fumo È diventato giorno Fine Eh, ma c'è da dove i finali segreti? Aspetta, chill, chill Aia Chill, chill Buberoni è il cantante di buon compleanno 5 3 di xp Mi sta infastidendo, porco Dio Questa ci mette a schifare tutta sta roba? Continua Allora Allora Ci abbiamo fa' due cose in realtà Uno è mettergli il fiore giusto È l'altro È l'altro quello della È l'altro quello dell'armadio Infatti Edi ci ha dato un altro stiger Questo è tipo il finale Buono Buono Mi sa che so Tre finali di merda E tre buoni Ok It's been three weeks since local television producer Sam Colton was reported missing And authorities still have no leads Colton is the creator of Amanda the Adventurer The public access children's educational program that became a huge hit among area children But with Colton's disappearance, the future of the show remains unclear Last year, Hamlin Entertainment purchased rights to the live action program starring Colton's daughter Rebecca As budget and production value increased, Hamlin reimagined the show as an animated series Planning to syndicate the program nationally Hamlin's acquisition of the program and Colton's recent disappearance have raised some eyebrows And to further fuel these concerns, new episodes of Amanda the Adventurer have had subject matter That has left local parents uncomfortable about the program My kids are still really into that show, but it has changed I mean, I walked in the other day and Amanda was talking about how mommies and daddies aren't always right I mean, what is that? That's not something you tell impressionable kids I had to change the channel I just told the kids that the TV was acting up It's not yet clear how Colton's disappearance will affect the involvement of his daughter Rebecca The show's young star We reached out to Hamlin Entertainment for an interview While representatives declined to comment, they did release a written statement We at Hamlin have concerns surrounding the nature of Sam Colton's abandonment of both our program and his daughter We cannot speculate on his reasons for leaving We do ask that the community respect the privacy of Rebecca Colton As she needs time out of the spotlight to process these disturbing events For the time being, Rebecca's local appearances have been canceled Including the Kensdale Public Library fundraiser, Woolies Readathon, this Saturday evening Rest assured that Amanda is not going anywhere Hamlin Entertainment remains committed to our vision for this cherished program Despite this statement, authorities have not drawn any conclusions About the nature of Sam Colton's disappearance We will share any future updates as the story develops When we return, we'll check in with Zappo, the talking gerbil Mokkabit It's me, your friend, Skip And with me, as always, is my trusty dog, Chip Well... 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 Because these are like finalists, like meme They're like lore Like a lore Or like a lore You can't know what i will All right, now, let's open the room 2862 mi pare ok bro ma la cassetta dove porco dio sta questa è la cassetta base quindi dobbiamo rifare ammazzare di nuovo la pecora e come cazzo si ammazzava la pecora ma chi si ricorda eh la torta come arrivavi alla torta da robò da robò mettendo la prima cassetta che coglioni aspetta ma andiamo a vedere su youtube i finali mi sta bene il cancro allora mi mettiamo 4 e 25 40 minuti la mela qua dentro se che mi metterò con l'acqua mi sa che nel baule sta già la prima cassetta creepy quindi mi spawnano tutte che senso la mia cazzo è la mia cazzo la mia cazzo che porco dio lì ho trovato 150325 150325 150325 150325 150325 150325 150325 160325 20三 resta è la candela l'appoggiamo l'altra candela era vo' vi ricordate com'era c c c c d ci c d c c f perfetto Ma non è che mo' non spawna Perché non abbiamo Abbiamo già aperto lì Potrei usci matto No ma in tedesco ti triggera Tua madre Oh gli dico no Vamo a dirglielo Per il meme Dai rifammo così dai Dimogliere il ginocchio No devi dirgli per forza la testa E' come l'aiuto Su chi devo cliccare Mi ammazza comunque E' come l'aiuto E' come l'aiuto E' come l'aiuto